bella 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 amici bella amici andiamo a completare a finire insieme il gioco the end of the game ok andiamo a parlare col nostro amico antenato sono andato sulla nave e ho fatto girare l'ancora andiamo a parlare col nostro amico antenato e finiamo completiamo questo gioco a marco trans mettendo l'ultima statua me hai restituito il mio potere potere dopo tutti questi secoli la mia missione è stata ristabilita ora devo ringraziarti grazie per non esserti lasciato trasportare dall'avidità come quei miserabili furfanti hai riportato tutte le tre statue rienendo e completando la triade mi sembra che tu abbia raggiunto la fine del tuo grande viaggio lascerò a te la scelta a voi che spezzi la maledizione permette a te l'equipedaggio di andare via o preferisci restare a occuparti del tuo equipaggio le culture esplorare combattere però a bello fammi andare ciao posso indietro posso seguire il rituale e ha tirato la maledizione che incombe su queste isole vecchia di secoli è creata dalla collera l'esistenza obsoleta questa antica prigione scomparirò e tutto quello che vi è imprigionato sarà liberato dalla sua presa marco drams e vai namo la maledizione tempesta circondata solo può partire e verrà distrutta di nuovo marco drams mettere qui è dimostrato di poter compiere grandi imprese ovunque ti porti il viaggio della tua vita per perdere il tuo respiro non arredarsi mai è il momento di congelarsi ciao ciao bello allora dobbiamo andare a trovare l'amico charles che è mio padre ok allora ragazzi andiamo a completare finire questo gioco che mi è piaciuto veramente tanto comunque raga lo trovate in mega offerta sullo store in questo periodo che faccio il video siamo agli inizi di agosto e lo potete comprare o versione ps4 o versione ps5 attenzione raga perché se vi sbagliate dovete comprarlo due volte a ok verso la piramide non è non è qua dove sempre quindi credo che è qua eccolo qua papi arrivo scusa tata grande figliolo capiscono edizione è stata spezzata ce l'hai fatta sono fiero di te ho già messo l'equipaggio che andrà da loro ok andiamo a informare l'equipaggio chi è che c'è chi è che c'è chi non c'è l'equipaggio è solo qua giù allora andiamo a parlare con tutti raga ciao cuoca finalmente siamo pronti per andare sono felice che è arrivato questo giorno ok le borse sono pronte non vedo l'ora di partire grandissima vediamo il barbarossa tac e marco trans che stanno tutti preparando partire le stelle sono un po triste tutta questa natura intatta mi ha fatto davvero sentire a casa ma immagino sia meglio partire altrimenti non sarebbe rimasta così a lungo preparo e andiamo ok grande benda marco trans quindi ce l'hai fatta possiamo darsene via hai fatto tutto che sarebbe riuscito a farlo per essere occupato di noi grazie preparo le mie cose nell'equipaggio vai ciao ne abbiamo ancora 44 e poi ce ne andiamo ragazzi da questa isola maledetta ma adesso non è più maledetta fiona dai che ce ne andiamo la nave si è dispiaciuto restare sono emozionata ma voglio partire grandissima ho sbagliato anche a fare x due volte o la più signora qui teresa mio caso l'hai fatta siamo pronti a partire sono così fiero il campo è una nuova nave sono orgogliosa fammi preparare le mie cose non voglio arrivare in ritardo grande grande teresa bravo e dire andare a mettere a posto le tue cose perché non possiamo andare in ritardo capitano siamo pronti a partire accidenti penso che l'organ sia superati con questa nuova nave spero davvero che stia galla a andia bene ma non benissimo si comincia bene ma non benissimo durante il nostro prossimo speriamo spera speranza l'ultimo a morire ma se chi l'ha costruita ha detto che speriamo rimanga a galla siamo messi veramente bene incredibile la via nuova nave stanno costruendo posso affrontare il mare grosso pescare il mare aperto vabbè tu peschi aspetti il pappagallo al pappa è andato trova charles davanti al relitto eccolo qua dai papi marco drams capisco ha informato l'equipaggio andiamo dove manichiamo a bordo figlio ha già messo le tue cose il zaino ok alla zaino il zaino orca loca eccolo qua il zaino andiamo zaino zainetto che ha fatto teresa l'ha fatto veramente bene con cose di recupero grande teresa grande sarta sempre impeccabile con i suoi vestitini al top ok allora ce ne andiamo portiamo allora cosa dobbiamo fare charles ok marco drams qualsiasi quasi pronti sono da fare l'ultimo compito a io devo istare le vede va bene oca loca tutta la gente che c'è vabbè tanto è l'ultimo compito belli poi dopo ok no 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 devo andare su dai che manca una vela siamo pronti a partire a congedarsi da stranger sail explorer ok no qui bellissimo gioco ve lo consiglio un bel gioco indie no 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 corri 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 dai 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 sono pronto sono emozionato andare via dall'isola anche se un po mi dispiace finire questa avventura il platino arriverà adesso e a marco drams questo campamento nonostante sia rimasto bloccati che abbiamo fatto del nostro meglio è tutto grazie a te cosa avremmo fatto senza di te sono felice questa avventura insieme a te figlio ora penso è il momento di dirtelo ha imparato per la sua avventura non lo dubbi che devi essere tu il capitano della nostra snavozza andiamo ciao isola ed eccolo il trofeo il trofeo il trofeo bella lì ragazzi stranded sail explorer of the course island io vi ringrazio per aver visto tutta la serie di stranger sail sul mio canale mi raccomando c'è la versione ps4 o ps5 non comprandone uno le sbloccate tutte e due e almeno questo è quello che è successo ma poi se a voi succede altro scrivetelo nei commenti commentate iscrivetevi al mio canale youtube mettete un like ai video seguite tutti i vari video che faccio ne faccio tantissimi anche tutorial manutenzione console pedaliere del volante tanto tanti tanti video dei one edition dei giochi setup delle auto su gran turismo su altri giochi tanti tanti video di intrattenimento insieme a voi allora mi raccomando di seguire anche il mio canale twitch dove faccio le live ore 21 tutti i giorni lascio i link in descrizione comunque cercatemi sempre come marco drums games marco drums games ok ragazzi e anche social facebook instagram tiktok twitch discord telegram ragazzi cercatemi dappertutto iscrivetevi ai miei canali e possiamo così chiacchierare insieme e vedere la mia programmazione vi saluto questo indie mi è piaciuto tantissimo stranger 6 passo e chiudo the end ciao ragazzi alla prossima mi raccomando di seguire anche tutti i vari video che ho fatto sui trofei e se vi possono interessare se volete platinarlo ciao ragazzi statemi bene e ci vediamo al prossimo video al prossimo gioco da granissimo marco drums games è tutto mitici ciao